Torna il tradizionale appuntamento di Farindola con Pecorino e Pecorini, dodicesima edizione, quali le novità? Sì, la dodicesima edizione, per quest'anno abbiamo previsto come sempre la riscoperta del borgo e quest'anno ancora di più perché stiamo cercando di portare anche degli artisti abbiamo portato degli artisti che lungo il percorso si occuperanno di fare delle opere d'arte, di pittura, scultura e quant'altro la tradizione quindi vuole che si faccia una degustazione di vino e formaggio pecorino abbinato anche ad arti prodotti tipici del territorio abruzzese e soprattutto la nostra era vestina e di Farindola L'obiettivo è sempre lo stesso, propagandare le primizie e le specialità culinarie della nostra regione e tra queste c'è sicuramente il pecorino di Farindola Sì, quello è l'argomento principale, il tema principale, il prodotto principale che ci spinge e che ci ha dato la possibilità di fare questo evento è proprio il pecorino di Farindola che è sempre più ricercato e anche in quest'ottica stiamo puntando a poter fare dei corsi per i giovani per poter pensare anche di fare nuove imprese perché la richiesta è tanta e sicuramente potrebbe essere un portato di lavoro per i giovani che intendono affacciarsi a questo mondo che è un mondo penso per chi ama la natura interessante